video questa sera in compagnia di matti matti 98 amici eccoci tornati in un nuovo episodio di crash royal tutti andiamo a spacchettare i badili ecco la clonazione parla parla di qualcosa di qualcosa sono fatto no signori non prendete esempio da matti 98 allora richiediamo una bella streca il mio mazzo è buono ma ci metto troppo tempo a buttare giù una torre bravo vediamo le doppie leggendarie o il domatore di cinghiali o il domatore di cinghiali me ne prendo uno solo perché me ne hai detto tu signori questa è una canzone di gabri di gabri ponte non la conosci no serio sto a dire siamo un po' brilli proviamo a fare una bella apartaita no ma serio l'apartaita l'apartaita l'apartaitona butta il fuoco subito dai zitto un attimo allora dividiamo gli arcieri ehi giovane dove vuoi andare tu mi ha fatto un bel po' di danni questo giovanotto qua vediamo se riusciamo oh perfetto in realtà la mongolfiera l'hanno depotenziata ma nemmeno di tanto perché no non mi dire ok pensavo che la rise up già stavo spruzzando male questa rise up veramente fa paura come canzone allora come primo attacco devo dire che noi ce la siamo presi dentro in der cooler proviamo a fare la nostra solita combo scintilla più questo qua questo arancione potente proviamo a fare di questo oh vedete vedete che il mega scherro il mega scherro oh vasco rossi allora proviamo a fare di questo perché io ci devo beccare la torre oh la beccata giovanotto si è messa a piangere si si è messa a piangere perché questo giovanotto ha perso una torre ha perso la torre il giovanotto vai gigante di merda muori pezzo di fango sai che c'è io ti metto questa lui c'è una mongolfiera molto cattiva questa volta mi sa che me la fa una hit proviamo a fare di questo no non l'ho presa e dai ma che sfiga eeeh Gesù no come Gesù no aspetta ho sbagliato a dire allora lui è in vantaggio questa volta o no boh potrebbe essere ho uno spettatore saluto lo spettatore e fa me vedere allora proviamo a fare di questo dinunzio eh ragazzi è vera eh facciamo di questo cucini no scintilla di merda eh no queste cose non si fanno sul canale 5 si fa di tutto penso che Maria De Filippi sbaglia i verbi se avrei guarda che sfiga di merda io non posso fare di questo facciamo di questo facciamo di questo oh mio dio ho preso tutto la 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 eh ragazzi sto facendo delle giocate ai limiti ai confini della realtà vai che la torre andrà da giù mettiamo questo gigantoni gigantoni zitto 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 fammi fare vai scintilla di merda spara si ha sparato mago il mago il mago no aspetta dobbiamo difenderci qua giovanotto ehi gigante di merda dove vai falli la torre ok allora lui vuole fare il simpatico io vado avanti a sferi di fuoco allora non me ne frega proprio niente non me ne frega niente no aspetta è una canzone che fa non me ne frega niente di niente oh no posso dire una cazzata io no cristofre e colombus abbiamo perso abbiamo pareggiato no abbiamo perso 3 a 2 va bene signori io non sto in condizioni di giocare quindi questo episodio potrebbe finire qua un episodio breve quest'oggi abbiamo già fatto la sfida della cura siamo arrivati a 6 6 fammi vedere un attimo no aspetta siamo arrivati a 3 cazzo sto dicendo siamo arrivati a 3 non abbiamo preso nemmeno i sordi e nemmeno e nemmeno quelli che ci sentono neanche Alberto nemmeno quelli che ci sentono Alberto lai la 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 facci godere ok signori quindi niente cura per noi infatti andiamo a vedere le carte le carte che ci manchino le carte che ci manchino eccola qua la cura oh è zitto un po' però 100 al secondo durata 3 secondi raggio 3 signori eeeh l'episodio finisce qua iscrivetevi commentate condividete oggi episodio breve episodio fast saluto da Matti Boboom no ma che Pogboom ma che Pogboom ma magari fosse stato Pogboom come fra sono letto 98 ha suonato la trombetta con la testa vai signori iscrivetevi commentate condividete lasciate like di lasciate like lasciate i like commentate iscrivetevi al nuovo al canale di Tony Luca Tony ci vediamo al prossimo video bella ragazzo o Goldberg o Goldberg